Ciao, sono Luca Colombo e ti vorrei invitare al Summer Camp che si terrà dal 20 al 24 luglio a Bucci, nel provincia di Arezzo. Ti aspetto! Ciao ragazzi, sono Ruggero Brunetti, ci vediamo dal 20 al 24 luglio a Poggio Cernina Resort per il Summer Camp. Tanta musica d'insieme, tante jam session, tanti colleghi con i quali potersi confrontare. Ci vediamo a Poggio Cernina dal 20 al 24 luglio. Ciao ragazzi, sono Dino D'Autorio e vi aspetto dal 20 al 24 luglio al Summer Camp 2022, quindi vi aspetto numerosissimi. A presto, ciao! Ciao ragazzi, vi aspetto al Summer Camp 2022 dal 20 al 24 luglio. Un abbraccio grande! Ciao, sono Giovanni Boscariol e ti aspetto dal 20 al 24 luglio al Summer Camp edizione 2022. Ciao, sono Lele Melotti, ci vediamo al CEM Summer Camp 2022. Amici cantanti, ciao! Sono Tony Guerrieri e anche per quest'anno sarò docente di canto moderno e di backing vocals al CEM Summer Camp 2022. A presto, ciao!